Prima Rodney Rodney, poi l'Ovrio Casanova e adesso è no barbu senoside pure Vi ricordate un anno fa che c'era quella Creepypast? E qua c'è scritto, io ti ordino e tu fai E io non ne potevo più, ho scritto, cosa vuoi anche tu ora? Basta, c'è troppa gente Ehm, assecondiamolo, va bene Clicca qui Raga, mi si è aperto questo video? Di questo ombrello che si apre, lo lancia e... Oh Allora, a parte questo... Scusate, scusate, scusate Forse non si è visto abbastanza perché c'era la mia faccia di mezzo Però non ho nemmeno fatto in tempo a toglierlo Ma... Ma che cavolo è? Ma... Ma raga, ma che caspita mi state dicendo? Ma che cosa sta... Ma allora, esiste una roba del genere in là Guarda che se esiste un ragno ombrello Ma poi come potrebbe essere fake? Scrivetemi nei commenti se per voi questa cosa è fake E poi, soprattutto, perché caspita me l'ha inviato questo Aino Barbos del cavolo Questo ombrello inutile Ah 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 ah, zitto, palla inutile Ma palla inutile a me Brutto Raga, mi sto... mi sta facendo arrabbiare Clicchiamo qui, va bene Allora, questo video che mi ha mandato si chiama Easy Down Ben Facciamolo partire Raga, scusate un attimo, ma che ca... Aspetta, però questo mi fa un po' ridere Cioè, non è che mi faccia proprio tanta paura Oh no, Ben si è rotto il polso Allora, si sta molto lamentando Perché giustamente si è rotto il polso facendo così, no? È il tempo dell'eroe Però, scusate, cosa... c'è il nonno Perché è così? Perché Gwen invece è così? Ma avete mai visto Ben 10? Cioè, non sono così normalmente E poi, c'è... Vabbè, non voglio far notare troppo Perché è meglio così, però... E dice Eh, ti si è rotto il braccio E lui dice No, 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 no Tutto così Ma che cavolo? Ma questo non è horror, scusami, eh E poi c'è il nonno che... È un po' preoccupante, signore Posso dire... Dice che mi sono trasformato in un pauroso alieno Allora, prima di tutto fa ridere che Gwen ha la voce da... 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 da maschio E poi, soprattutto fa Oh mio Dio, nonno, che cosa è successo? Raga, io gli ho scritto Scusa, ma perché questo video non era horror? Giustamente, perché era più che altro una cosa molto stupida E lui dice Perché il braccio rotto di Ben ce lo avrai tu E io, giustamente, ho mandato dei puntini Perché non è normale, no? Raga, mi ha scritto Bravo Se continui così non verrò a casa tia Vabbè, tua Fai un errore e non ti libererai mai più di me? Cosa? Ora clicca qui Ok, va bene Non voglio avercelo a casa mia Quindi cerchiamo di non fare errori C'è questo nuovo video che non ho capito Cioè, allora, praticamente, questo si chiama You got a friend in me E praticamente dice Voglio che ti muovi per me Alla bambola Molto brutta, peraltro Allora, vi traduco Se non mi ascolti Beh, distruggerò tutti i tuoi amici Ma che cavolo di problemi ha questo qua? Muoviti per me Muoviti per me E poi, ovviamente Ah, tutto quanto in nervosi Oh mio Dio Ma che problemi ha? Ma raga, ma, allora, scusate Ma perché questi tizi mi stanno mandando Questi video qua Che sono veramente disturbanti Cioè, hanno dei problemi Ma proprio anche i protagonisti qua Hanno veramente dei problemi Cioè, comunque, se avete notato Anche se lo scorso era divertente Ma sono strani Hanno tutti Proprio Come se avessero delle difficoltà Dei problemi Non so come dire Cioè, non sono proprio normali Sono disturbanti Non so, è strano E poi c'è sto qua che urla ad una bambola È certo che non si muove Una bambola Che cosa vuoi che faccia? Cioè Dice Oh mio Dio Dice che ti ho visto Che stavi giocando con la sabbia Alla bambola, raga Alla bambola, eh Che, ovviamente È quello che vedeva lui, guarda Oh mio Dio Ok Questa cosa non saprei nemmeno come tradurvela Il fratello di questo qua Non è più fra gli esseri viventi Come dire Perché gli è successa una cosa brutta E questo qua dice Ehi Noi ci muoviamo Quando Alla persona Sta per succedere una cosa brutta E Ora Si stanno muovendo E stanno parlando Con lui E ha detto Infatti Beh Noi ci muoviamo Quando sta per succedere Una cosa brutta E Eccoci qua Probabilmente Gli sta per succedere Una cosa brutta Ecco Dice È andato È andato in paradiso Non è che Se ne è andato via Se è proprio andato in paradiso Invece Ok È stata la bambola Beh Ed ecco la fine Di Andy Oh no E l'ha preso la sorella Io gli ho scritto A questo qua Perché veramente Qua io mi sono Completamente Sconvolto Con questo video Gli ho scritto Ok Non dovevi mandarmi Questo video Mi sono davvero Sconvolto Come hai potuto Lui ha scritto Ah 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 Tutto ridendo Che schifo Sei tu che volevi Un video spaventoso Eccoti qua Beh Prega che i tuoi giocattoli Non si muovano Mai da soli E io Giustamente ho scritto Smettila Non esistono i giocattoli Che si muovono Da soli E tu Sei solo un pazzo Che cerca di spaventarmi Attento a come parli Dunis Clicca qui Sto anche cercando Di imitarvelo Con la faccia Se avete notato Perché sono un attore Perfetto Ehm Raga io ho veramente Paura di cliccare Perché stiamo andando Avanti ai livelli Cioè questo video È stato veramente pesante Da sopportare Io non vorrei Ritrovarmi con qualcosa Di ancora più pesante Adesso Raga ho cliccato qui E che cavolo Ah ok qua Ok Questo È un gioco Molto horror Ti lascia di nuovo Ah allora Quando lui è così Io posso Ucciderlo Ok perfetto E ho vinto Ok allora Dobbiamo cercare di sopravvivere E non morire Perché se no Il signore qua Il tizio di prima Ci fa fuori eh Tranquilli Ce la possiamo fare Oh Eh Ok via Via Uccidi Ma non posso ancora E abbassa È troppo lontano Vedete Ok Ok perfetto Adesso però posso ucciderlo Dai 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 Oh no raga 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 Ok Perfetto Perfetto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Perfetto Che musica No 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 Io non ci gioco più No raga Non ci gioco più Oh l'ho ucciso Avete visto Win ho vinto Beh vedete che con la pistola È un po' più semplice Effettivamente Ora prenderei Questo coso Vediamo un attimo No questo ho detto Ok tecnicamente Io ora ho la magia E Se faccio così Ora ho capito Dove stanno Allora faccio così Ok perfetto No devo un po' più a sinistra A destra volevo dire Ok Tecnicamente È abbastanza giusto Perfetto Forse l'ho ucciso Quello E adesso questo qua Allora faccio così No un po' più a destra Dai ce la possiamo fare Raga insieme Sono abbastanza fiducioso Di potercela fare Basta che mi scrivete Appunto nei commenti E ricordatemi di Darmi coraggio Perché da solo Veramente Mi cago addosso Troppo Vedete raga Forse lo sto un attimo Facendo di nervosire Perché ho scritto È un gioco Wow Beh non mi sono spaventato Così tanto Ma No ho scritto in realtà Beh mi sono spaventato Ma non è stato così brutto In realtà raga Questa è stata la cosa Che mi ha fatto più spaventare Come avete ben visto Però facciamo finta di niente E lui ha scritto Aha stupido illuso Beh non ci crede nemmeno lui Però dice Clicca qui veloce Vabbè Clicchiamo Raga Che cavolo Allora ho preso La chiave Praticamente Adesso posso Aprire con La E Madonna fa un casino Assurdo Tecnicamente Sappiamo tutti Che non dovrei entrare In questa casetta qua Ma sapete che cosa Mi ricordano Un attimo Le back rooms Se posso dire La mia Allora devo trovare La chiave di questa porta E sto sentendo Dard Vadri Mi sono preso Uno di quei colpi Raga Cioè Vi giuro I giochi horror Non sono fatti per me Mi sento malissimo Ogni volta Però ho preso la chiave Magari posso aprire questa Ok si Però io non c'era Entrerei Perché qua Mi prendo altri Jumpscare Della madonna E E non è divertente E non L'horror Non è fatto per me Effettivamente L'horror raga Anche perché Mi sto sentendo Abbastanza male Da quando Ho fatto quella cosa Da quando ho aperto la porta No da quando ho visto Quella faccia bruttissima Mmm Che bello Che sei Davvero Aiuto No Ok raga Io ho Quittato Dalla pagina Proprio Che mi aveva Mandato Che era tipo Un gioco Su un sito Praticamente E non so nemmeno Se era il suo sito Che cosa Non ce l'ho fatta Veramente quel gioco È stata la cosa più Non so perché Ma mi faceva spaventare Più Di quanto Di quanto Avessi mai potuto Non lo so È strano Più di poppy playtime Addirittura Boh vabbè E poi infatti Ho scritto Non voglio prendermi Un infarto Beh allora Non ti sei liberato Di me Aspettati Altro E poi io zitto Ovviamente Perché non lo sopporto più Quindi altro Quindi continua Questa cosa Ovviamente vi porterò I video Se vedo che lui Farà qualsiasi cosa Vi porterò i video La situazione Con Lovro Casanova E con Ronnie Rodney È più o meno La stessa In questo momento Vedremo chiaramente Come continueranno Le storie E mi raccomando Non rispondete in giro A questi tizi Su Instagram E in giro Su internet Comunque In generale Non rispondete Che è sempre Una buona idea Grazie per aver guardato Questo video Ricordatevi di iscrivervi Il canale Lasciare la campanellina Attivare la campanellina E scrivermi un commento Come consiglio Del secondo voi Perché Aeno, Barbus, Eno, Cid Ed E così pazzone Che è sempre Aiutantemente Questo commento E sappiamo tutti Che le leggende Dicono Che questa cosa Se farete queste tre cose Vi proteggeranno Tutti quanti Commentate con Non lo so Protezione Per poter essere protetti Ecco Facciamo così Che è più semplice Quindi tre cose Della leggenda Non le ho dette io E quindi ci vediamo Al prossimo video Ciao